Buon pomeriggio dalla pala olgiata di Roma, si gioca la ventiseiesima giornata di campionato, si sfidano Olympus e nuova Comauto Pistoia. Occhio qui alla transizione per l'Olympus che si sviluppa con Rafinha, Dimas, grande finta di Dimas, la mette per Marcellinio, al primo a fondo, passa l'Olympus, sempre Marcellinio, 17 minuti, 24 secondi, 1 a 0. Pallone scodellato per Isgro, che calcia sul secondo palo, si salva la nuova Comauto che parte in contropiede con Berti, continuano a fioccare da una parte e dall'altra le occasioni da gol. Torna in campo Avironi, giusto un paio di minuti di riposo per il pivot, occhio qui ancora al taglio di Sacon con il pallone che gli finisce sul corpo e poi sul palo. Ancora Ghina in uno contro uno in banda su Rafinha, cambia lato per Berti, ancora Berti col mancino. Marcellinio, Sacon, apre il destro per Marcellinio, c'è sul secondo palo Isgro che arriva, non sbaglia, Anthony Isgro, presa alle spalle, la difesa della nuova Comauto, anche il gol di Anthony Isgro, fate pure 101 in stagione per l'Olympus. Pallone in bucato, Marcellinio col stacco per Sacon, Caio Ainsa fa un miracolo, che parata di Caio Ainsa, mamma mia! Berti dentro il pallone per Bebetinio, la lascia lì per Ghina, ancora il duello con Dimas, poi Ghina pesca Avironi che prova a calciare, Bebetinio! Ha colpito la traversa, la nuova Comauto, ancora ad un passo dal 2 a 1, ancora Avironi, se ne va su Sacon, mette dentro Bebetinio! Col tocco sotto, aveva colpito la traversa, ora c'entra il bersaio, tutto nato però ancora da una splendida giocata in banda di Avironi. Fischio arrivato in questo momento, parte il secondo tempo di Olympus, nuova Comauto. Occhio, qui ha un doppio rimpallo, 3 contro 1, Bebetinio, due volte Bebetinio! All'indietro per Sacon, se ne sono andati i primi 6 minuti del secondo tempo, Sacon! Sull'imbucata di Schininà, batte in diagonale Caio Ainsa, 14 minuti da giocare nel secondo tempo, l'Olympus cala al 3 con Sacon, 3 a 1! Occhio qui alla nuova transizione che si sviluppa per Avironi, che va da De Ganna, che colpisce il palo, poi Galindo, poi Ghina e Ducci! È super! Ghina, Bebetinio, finisce a terra sulla pressione di Dimas, non c'è fallo, ancora Bebetinio che prova ad allungare la traiettoria. Occhio che si scatena, il contropiede dell'Olympus, pallone di Sgrò per Marcellinio, che è in allungo, sul secondo palo, fa doppietta e fa 4 a 1 con 10 minuti e 32 secondi da giocare! Bebetinio la lascia lì per Avironi, Ducci poi Ghina! Sta collezionando a raffica, palle e gol la nuova Comauto! Occhio qui alla contropiede, Marcellinio! Bravissimo, Caio Ainsa, Schininà, prova ad andare in anticipo su Ghina, riesce in due tempi a sfilargli il pallone, Marcellinio, Kudrupi! Col tocco sotto, delizioso! Now or never, per i ragazzi di Fratini! Bebetinio, Ducci, e poi Sacon allontana il pallone che finisce sul palo! Clamorosa chance anche per l'Olympus! Vega, Ghina, Galindo, calcia Galindo! Ducci ancora una volta, seconda vittoria consecutiva per l'Olympus, che batte 4 a 1! Una mai doma nuova Comauto Pistoia!